Con l'arrivo di settembre Giancarlo Boschetti insieme con Geremia, un giovane apprendista pastore di grande passione, sposta il greggio di pecore e capre dal passo della colla a più di 1400 metri verso il basso a Pianadetto, frazione di Monchio delle Corti, una sosta per acclimatarsi prima di tornare a ottobre a piedi in Unigiana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.